La giornata di oggi si potrebbe riassumere con due parole, pioggia e noia della Vespa, che detta così parrebbe una giornata di m*** se non fosse che sto facendo comunque la cosa che più mi piace e anche questo fa parte di ciò che più mi piace. Direzione la cittadina di Butual, ma la Vespa è scarburata, ma dato che a Dely ho comprato un nuovo carburatore, inizio a cambiare quello, che tanto il vecchio suo dovere l'ha fatto in questi ultimi 55 anni, però mi dispiace parecchio cambiarlo, il carburatore è un po' al cuore di un mezzo a due tempi e dopo il trapianto a cuore aperto, breve sosta al checkpoint della polizia, in Nepal ce ne sono parecchi, non credevo fossero così fiscali sul codice della strada, meglio così, come quasi sempre ad ogni latitudine con me finisce a tarra luce vino, giusto una breve chiacchierata sul viaggio e qualche sorriso, ancora scorci di vita dalla carregiata, con il minimo comune denominatore che siamo tutti bagnati come delle rumache, poi tanto verde e tanta foresta, una breve sosta dove ne approfitto per cambiare anche le fasce elastiche, ma non cambia nulla, mannaggia, e poi il piatto forte della giornata, attraversamento della riserva naturale, ricolma di tigri ed elefanti, tutti in carovana a 40 km all'ora, mi rincuora il fatto che bagnato come sono la tigre di me al massimo si fa un brodino di carne, anche con retrogusto di miscela, non il massimo, mi raccomando un like o un commento, e se proprio proprio una visita anche al mio negozio online, state liberi!